Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi, a sei mesi dall'inizio del nostro orto, tiriamo le somme. L'orto sinergico ci ha dato svariate soddisfazioni, ha prodotto zucchine, pomodori, bieta, ravanelli, fagiolini, melanzane e altro. L'orto senza fatica di root stout invece ha un po' stentato. Questo è dipeso probabilmente dal fatto che avremmo dovuto aspettare circa un anno dalla posa della paglia sul suolo prima del trapianto o della semina, in modo da lasciare il tempo ai processi di trasformazione della sostanza organica di eliminare, di degradare l'erba e ammorbidire la terra e facilitare lo sviluppo delle nostre piante ortive. Noi non volevamo aspettare, l'orto lo volevamo fare subito e quindi i nostri semi o le nostre piante si sono ritrovati in una situazione difficile, dove c'era una grande competizione di tipo nutrizionale e di tipo proprio spaziale con l'erba già presente in campo. Poiché abbiamo deciso di ingrandirci, ma vogliamo mantenere i vantaggi tipici dell'orto di root stout, ma allo stesso tempo vogliamo mettere a dimora o seminare subito e non aspettare il tempo necessario affinché il sistema entri in funzione. Abbiamo deciso di fare una lavorazione del suolo, prettamente superficiale, per ammorbidire la terra che era molto dura, probabilmente non era stata mai lavorata tant'è che la stessa moto zappa ha avuto molta difficoltà a rompere il terreno. Abbiamo approfittato della situazione per interrare una piccola quantità di stallatico e per eliminare il codico erboso che era molto intricato. È vero che a volte le lavorazioni del suolo possono fare più male che bene perché si rischia la perdita di sostanza organica per mineralizzazione e la perdita dei microrganismi che ci sono nel suolo e che sono i principali responsabili della liberazione di molte sostanze che sono fondamentali per la crescita delle piante. Ma in questo caso noi andremo a ricoprire il terreno di uno spesso strato di paglia, di fieno in questo caso, subito dopo la lavorazione minimizzando questo processo di mineralizzazione e andando a favorire il processo di umidificazione della sostanza organica che sarà anche più rapido grazie proprio alla lavorazione del suolo. Grazie per essere stati con noi, noi vi aggiorneremo sugli sviluppi del nostro nuovo orto quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere nessuno dei nostri prossimi video perché vi daremo tanti consigli utili. A presto, ciao!